Ormai siamo abituati agli sconti roboanti, sempre crescenti, 10, 20, 30, 40, 50, 60%. E allora guardate questa nuova sintassi del prezzo e dello sconto creata da Unicopo Firenze. Parte dal 3%. Su circa 2000 referenze in promozione queste settimane, il 3% è notevole perché sono diverse, decine di referenze coinvolte. Quanto vale il 3%? Beh, dipende dalla categoria, dipende dal prodotto, dipende dal brand. Ci sono brand dell'industria, della grande industria, nazionale e internazionale, e poi ci sono i brand della MDB, della marca del distributore. Ma partire dal 3% ha un significato perché anche un piccolo risparmio sul totale della spesa, un 3%, appunto, porta ad un altro prezzo finale. E questa è la scommessa di Unicopo Firenze, che si permette di mettere sugli slim un numero piccolo, 3%. Questa è una nuova sintassi, è una piccola rivoluzione dettata un po' dalla situazione, un po' dalla concorrenza, sia orizzontale con gli altri supermercati, sia verticale con i discount, che permette di fare la differenza. La differenza è un numero piccolo, 3%, che però ha un valore, soprattutto se giocato, come stiamo vedendo da queste immagini raccolte in un supermercato dell'Unicop Firenze, con profondità e soprattutto metodo continuo.